Min Min Cosin Oggi Sky Dragon aveva ancora usato Min Min Stavo usato, usavo l'oscena Credi che è il momento del nudo Tilt up smash subito 26% Eh, però... Ma con capelliscio avendo la piattaforma con fake Troppo vicino 44 Da un tilt la pedacca Cioè, sì, da un tilt la pedacca Cucu, cosa stai facendo? Non lo so Ah, vada, trovi da un tilt in 5 secondi Ok Sei molto attento al telefono controllo di capelli E cos'è il marco ditto per eccellenza? Fallito, l'ho fatto Fallito contro lo snipper Danram Corrin Bayer è davvero qualcosa Che è una mossa Iniziamo a me Unesimo da un tilt Oh! Bello Bello Mi piace Ora Se riuscissi a combattere il Nankin Senza accumulare da questa cosciente Per il secondo penso che posso capire per cos'è da più adesso Eh? La musica La suoneria di Byron La suoneria di Byron È canonico ragazzi È canonico ragazzi È canonicamente la sua suoneria Perché la cosa che c'è OuterCont tecnicamente parlando Sono tipo dei mini episodi che portano ad Ares Ma dato che Ares è un suo canon A parte È canonico che è la suoneria di Byron In The Crusade of Gods Probabilmente ogni giocatore di calcio ha la sua La suoneria Ma guarda Ieri stavo guardando la prima stagione di Razum Eleven con mio cucino di sette anni Lo sta adorando Giustamente Dovevo iniziare Bella DI Calcione che però non muore Ehi, non muore il calcio Si assolutamente Il calcio non muirà mai Giochiamo a calcio Allora la prossima partita di calcetto contro Duval Dovrei unirmi Eh, da fare Da fare Che si magari è un patate Non è a zero Io neanche c'ero Nemmeno che io Marco i capelli Wow Non pensavo tornasse Wow Nemmeno io Il Laura che prende sul ritorno Bellissimo Amo Billy Io no Per Minizia Bella DI 1-0 Fatima Archeus Signo con firment C'è già C'era già la stock corretta Di nuovo Fire Emblem Foda Winsor Le osso di Triops Se non le ho sentite Non le ho sentite Cursed Musatissima Musatissima Immagina Avere una maschera per nascondere i tuoi occhi E fare i mucchi Dentro della forma Che cazzo fai Che cazzo fai Semmai vai a una festa in maschera dei vestiti da giochi Perchè? Perchè? Perchè non dovresti E' l'unico modo per trippare con una maschera Perchè non gli assomiglio E' l'unico modo per trippare con una maschera E' l'unico modo per trippare con una maschera Lei pensa in testa Faccio Faust Faccio Faust Faccio Faust di Ingranaggio colpevole Soul Bad guy the guilty key Slow Bad man Ma in tutto questo fu qua la link E ora che l'ho detto l'appelderà Visto? Come hai detto Non c'è… non c'è voluto niente Ancora mai di percentuale Anche di posizione Quello ma come mangiare subito che si sa tutto Non sapevo anche che avrebbe visto da quella E' la community che non sa E' come lì la percentuale già Corsa di un po' sa skin la palla Il mio colore e quindi qui non c'era vedere Cioè non ho citato facendente che la palla gialla Che c'è? Comunque Eh vediamo un po' Ah ma Marco Cappelli ha perso la seconda stock Si Marco Cappelli ha perso la seconda stock Dalla palla sempre credo No Io ormai l'ho reso big fake in mia marchia Weave Weave Sta più forte delle palle gialle Stai even vedi? Si si Non voglio stare così vicino alla sideblast Un di tam contro Marco Cappelli No e fa Lagrange Lagrange Nooo Ok è vivo E' vivo E fa anche mezzo chilometro al litro Era la scena dei fantagenitori no? Da Ricotti Si Ok ertero Mio dio Sava per ammazzare Sava per mandare in un'altra dimensione In un'altra dimensione Devo farlo bene con la voce Altrimenti non l'ha razza il self Marco Cucu Impalato Come Giulio Cesare Giulio Cesare è stato coltellato 38 coltellate 28 stab wounds Oh l'ha quasi preso Nooo Pinnato 28 stab wounds Poi ho immaginato Kiryu Ogni volta che Va su un tavolo Mi viene in mente quella scena Anzi Questo è uno specifico Vabbè quello in cui se ne vado alla stanza no? No no Aspetta C'era quasi C'era quasi Quasi dove Quasi è la parola chiave Questa scena è uno specifico Radio Chissà Stava La mia schina di Codin La mia schina Adesso è Mithra Sì Mithra Mithra L'hai visto quel video Indiii Ti prendo i famori Ogni quando veni capito nel luogo di Youtube Ma mi riguarda semplicemente I am an E-boy Questa punta la devo far vedere Dopo sto game Dopo sto game se finisce qua il set Altrimenti Quando finisce il set E invece c'è il resto io di Skysgang Sai a vedere La demo di una giovedì Non lo so quando Non l'hai vista? Ehm... no Si è proprio di qualche aggiornamento Tipo che hanno finito lo sviluppo E andiamo aspettando che Rilasciarla Più o meno Attenzione quando la agenda Non prende a stock però Uuuu Come ha schivato Per il morsa La sta tenendo via No Quasi ha la smash Ok Ok Ora va bene Ok 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 Nicola Ok 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 Algho è tornato e ahiai guarda l'idea è morto era 120 ogni volta che sento porca miseria diamoci dentro mi rimetto in basur dopo 5 anni ancora ancora in memoria di basur si ieri in personaggio 3 c'era un personaggio a casa la diamoci dentro evidentemente uuuu ah quasi trovato la kill proprio lì col morso il morso della bellua adesso cuckoo una situazione terribile con una stock intera in meno e poi praticamente 110 di percentuale il morso il morso è morto il morso il morso il morso è morto il morso